Manca l'acqua da oltre dieci giorni alla Scala dei Turchi, una delle località balneari più suggestive e gettonate della Sicilia. Il sindaco, Calogero Zicari, per la disperazione, si vede costretto a fare un sit-in di protesta davanti alla prefettura di Agrigento, munito di bidone di plastica con tanto di fascia tricolore. Centinaia di migliaia di turisti e bagnanti, provenienti da ogni parte dell'Europa e del mondo, a due passi dalla Valle dei Templi, sito UNESCO, patrimonio dell'umanità, che ogni estate accorrono per ammirare le bianche scogliere della Scala dei Turchi, sono costretti a scappare per sfuggire alle possibili epidemie causate non solo dalla mancanza d'acqua, ma anche dalla pressoché totale assenza di depurazione dei riquami fognari. Il gestore dei servizi idrici agrigentini, Girgenti Acque, ha lasciato a secco i 27 comuni che gestisce in provincia di Agrigento. Se manca l'acqua a Messina per un giorno, il caso diventa nazionale. In provincia di Agrigento, dove manca l'acqua da settimana invece, la situazione è più che normale. Non sappiamo se quel bidone che stringe in mano davanti alla prefettura di Agrigento il sindaco servirà a qualcosa. Intanto il vero bidone lo subisce il turismo agrigentino mortificato dalla penuria di acqua nella provincia più disgraziata d'Italia.